Capitolo 2. Ritorno ad Hogwarts. Primo settembre 1977. Cerca almeno di nascondere quei maledetti colori, gli disse Walburga con disprezzo. Sirius per tutta risposta prese la sciarpa rossa e oro e l'avvolse intorno al collo dal quale pendeva già una cravatta dai medesimi colori, indostata in anticipo solo per poter infastidire sua madre. Walburga emise un verso disgustato e si voltò verso Regulus. Oh tesoro, sei sicuro di aver preso tutto? Regulus aveva l'aria annoiata e rispose in tono piatto. Sì mamma, perché non indossi anche tu la tua bella sciarpa? Perché è ancora presto, sia per quanto riguarda la stagione che nella tempistica della giornata. Poi lo sanno tutti che Sirius è un grifondoro, non c'è bisogno di fare tutta questa storia, rispose aspro. Porta rispetto a tua madre, tuonò Orion sopraggiungendo. Poi si avvicinò Sirius e disse. Possiamo scambiare due parole? Sirius si allontanò con lui in silenzio e attese che suo padre iniziasse a parlare. Ascolta, capisco che sposarsi con una donna che conosce a stento possa essere... Lanciò uno sguardo a sua moglie. Difficile, ma hai dei doveri nei nostri confronti. Passerò sopra la tua fuga silenziosa al matrimonio dei Malfoy, ma è ora che comincia a prenderti le tue responsabilità. Sirius sentì la rabbia montarli nel petto. Non accadrà, non ho intenzione di accompiarmi con chi dite voi come un animale. Forse non sono stato chiaro. Non è una richiesta, rispose gelido. Sirius scattò, fece un passo verso di lui, la mano sulla bacchetta, negli occhi un rancore covato per anni. Stava per aggredirlo, ma qualcuno lo trattenne. Il treno sta per partire, è meglio che andiamo, Sir, gli disse suo fratello. Sirius fece un passo indietro, guardò per un altro momento suo padre, poi seguì Regulus senza una parola. Per fortuna che ero nei paraggi. Cosa ti è saltato in testa? Vuoi farti espellere ancora prima di iniziare l'anno? Non avevo bisogno del tuo aiuto. Avevo tutto sotto controllo, rispose lui brusco. Ho visto. Una nota di sarcasmo nella voce. Poi il suo volto si fece più serio e guardandolo in tralice chiese Perché devi sempre rendere tutto così difficile? Gli occhi di Sirius sfiammeggiarono. Ah, sono io a rendere tutto difficile? Tu no. Se fossi venuto con me quando te l'ho chiesto, ora non saremo a questo punto. Non sarei costretto a sentire i loro inquietanti discorsetti e tutto il resto, rispose aggressivo. Il volto di Regulus rimase di pietra, ma qualcosa si mosse nei suoi occhi chiari. Era difficile da decifrare. Se provi tanto disgusto per ciò che siamo, perché sei ancora qui? Sirius sentì le forze abbandonare il suo corpo a quelle parole e rispose in un sussurro. Cominciò a chiedermelo anch'io. Poi aggiunse con una punta di veleno. Avevi ragione. Io non sono affatto come te. In quel momento, James Potter, con il suo immancabile tempismo, si mise tra di loro. Eccoti finalmente. Ho una notizia da darti. Sono sicuro che non indovinerai mai. Dai, indovina. Gli disse Allegro. Poi notò Regulus. Oh, ci sei anche tu, commentò freddamente. Ciao. Regulus, per tutta risposta, girò le spalle e andò via, dal capo opposto della stazione. È stato bello parlare con te, gli urlò dietro James. Si voltò verso Sirius. Lo fa mai un sorriso? Chiese. Poi, notando la sua espressione, aggiunse. Felpato, tutto bene? Non potresti essere meno te stesso ogni tanto? Scattò. Ehi! Esclamò mettendo le mani in segno di resa. Che succede? Sirius lo guardò con i suoi capelli spettinati e lo sguardo buono e vivace dietro gli occhiali tondi. Ricordò a se stesso che non era James il problema, ma che lui poteva essere la soluzione. La sua famiglia. Sirius si aprì in un ampio sorriso e passò un braccio dietro il collo di James, intrappolandogli la testa. Allora, dicevi di avere una novità, gli disse spettinandogli i capelli con la mano. James si liberò quasi subito e cominciarono una specie di zuffa amichevole. Sarò capo scuola quest'anno, disse mentre si accasciavano sui sedili dello scompartimento, i vestiti stropicciati e il fiatone per lo sforzo fisico. Mi chiedo solo come sia possibile, disse la voce di Remus. Aveva il volto sepolto in un libro, ma conosceva i suoi amici abbastanza bene da sapere che cosa avevano appena fatto. Sirius rise. Deve esserci un errore. Quello che ho detto io, rispose Remus, chiudendo il libro. Nessun errore, disse allegro James, e la cosa più citante è che lo farò insieme a Lily. Sirius roteò gli occhi chiari e ribadì divertito. Se credi che la cosa migliore di essere capo scuola sia stare con Lily Evans, deve esserci stato proprio un errore. Ho detto anche questo, disse Remus. Poi, notando l'occhiataccia di James, aggiunse. Che c'è? L'ho detto! Voglio dire, le responsabilità per non parlare del peso che una carica di questo tipo può aver nel trovare lavoro dopo la scuola. Io pensavo a poter uscire indisturbati senza rischiare di essere scoperti o messi in punizione, veramente, precisò Sirius. Remus scosse il capo con un'espressione di rassegnazione e tornò alla sua lettura. Gli altri due scoppiarono a ridere e qualsiasi ombra avesse toccato il cuore di Sirius nei giorni precedenti venne spazzata via. D'un tratto, la porta del loro scompartimento si apri con uno schianto. Eccoti qui, ovviamente. Dove altro potevi essere? Tuo no, Lily Evans. Il volto rosso di rabbia, quasi della stessa tonalità dei suoi capelli. James scattò in piedi. Non so per quale scherzo del destino ti abbiano nominato capo scuola, ma non ho intenzione di fare tutto il lavoro al posto tuo. Se non fai ciò che devi, farò rapporto al preside, minacciò. Oh, che paura, disse per tutta risposta James, sollevando la bocca in un sorriso arrogante. Lily lo fulminò con lo sguardo, poi disse in un sorriso. Ciao, Rem. Lo sguardo scivolò su Sirius. Sirius e andò via. Sembra che odi solo me, commentò James divertito. Che novità, rise Sirius. Ancora per poco, questo sarà il mio anno, rispose sicuro il giovane Potter. Poi corse dietro la ragazza urlando. Lily Flower, aspettami. Che succede? chiese Peter, entrando nello scompartimento, indicando con il pollice la direzione in cui era scappato James. Il solito James, rispose Sirius, mentre Peter si sistemava. Non riesce a riconoscere una sconfitta quando ne vede una. E tu sì? chiese la voce di Remus. Sirius non poteva vedere la sua faccia, ma era sicuro che stesse ridendo. A me non è mai capitato, rispose divertito Sirius, accendendo alle sue innumerevoli conquiste negli anni. Peter lo secondò con una fragorosa risata. Rubelia guardava fuori dal finestrino del suo scompartimento. Il paesaggio cambiava velocemente. In poche ore arrivarono ad immergersi in un panorama brullo incontaminato, il primo indizio che Hogwarts era vicina. La ragazza non aveva parlato molto durante il viaggio, per lo più si era limitata a leggere e ad osservare la realtà che attraversavano, incurante del vociare di Lucilla e delle altre compagne serpeverde. Si era già vestita e non aveva gran voglia di stare tra la gente. Così, quando la sua amica propose di andare a prendere qualcosa dal carrello dei dolci e a fare un salto nello scompartimento dove erano i ragazzi, declinò senza tanti convenevoli. Finalmente, pensò. Dopo ore di ininterrotto vociare, un po' di meritato silenzio. Chiuse gli occhi, il volto meno teso di qualche istante prima. Non sapeva dire il perché, ma riusciva a rilassarsi solo quando era da sola. Vistese le gamme un po' indolenzite e sistemò la divisa. Le dita sfiorarono lo stemma della sua casa e, con una strana associazione di idee, ripensò alla persona più incompatibile con quel simbolo che le venisse in mente. Sirius. Rimise immediatamente le mani sul sedile e riprese la posizione seduta e rigida di poco prima. Solitamente Rubelian era una persona riflessiva. Esaminava e valutava a lungo e solo allora agiva, come ogni bravo pozionista dovrebbe fare. Ma per quanto riguardava Sirius e ciò che era accaduto tra di loro, non voleva esaminare né valutare, anzi voleva pensarci il meno possibile. Aveva avuto un momento di debolezza, fine della storia. Con un po' di accortezza il suo sangue freddo avrebbe mantenuto il controllo di sé in futuro. Aveva il compito di sedurre e convincere Sirius a schierarsi dalla loro parte e, ne era sicura, ci sarebbe riuscita, a qualsiasi costo. «Posso?» chiese una voce maschile che la strappò di colpo dai suoi pensieri. Rubelia saltò sul posto. Vide quegli occhi grigi e quei capelli neri e solo per un istante pensò che potesse essere proprio lui. «Certo, Reg, entra!» gli disse. Lui entrò e prese posto di fronte a lei. «Sono venuta a controllare. Le altre sono tutte di là». Rubelia sorrise. «Non volevi stare in mezzo a tutto quel caos, di la verità». Beccato, sorrise lui di rimando. «Ultimo anno, eh?» aggiunse dopo una lunga pausa. «Come ti senti?» «Come qualcuno che vuole tornare indietro», le sembrò la cosa giusta da dire. «Immagino», rispose lui serio. Per un interribile istante, Rubelia temette che Regulus volesse parlarle di suo fratello, delle incombenti nozze o, peggio ancora, di quello che era successo. Lei non lo aveva detto a nessuno, Rabastan l'aveva vista uscire dalla stanza un po' arruffata e tanto gli era bastato, ma non poteva sapere se Sirius lo avesse raccontato. Tuttavia, Regulus non disse nulla. Sette lì in silenzio per diversi minuti, guardava fuori dal finestrino, sembrava preoccupato. «Tutto bene?» chiese lei. «Bene», rispose in tono piatto, poi si alzò. «Meglio che vada a cambiarmi. Siamo quasi arrivati. Ok. «Quindi tua sorella è quel black?» chiese Mulchiber con un ghigno. Rabastan fece un sorriso. «Non parlerò della vita privata di mia sorella. Non è poi così privata. Sappiamo tutti che deve cercare di manipolarlo», rispose con un'alzata di spalle Avery, mentre sgranocchiavano Zuccotto di Zucca. Rabastan lo furminò con lo sguardo. Poi, con un cenno del capo rivolto a Rosier, gli disse di chiudere la porta dello scompartimento. «Non sono cose che diciamo in giro». «Che c'è? Ci siamo solo noi qui», rispose Avery. «Anche le ragazze sono andate via». «Comunque, non è una cosa che diciamo», ripetì in tono freddo il giovane Lestrange. «Ok, afferrato», rispose Avery con una smorfia. «Non ne farò più parola». «Non sei certo noto per la tua discrezione», disse una voce fredda proveniente da un angolo dello scompartimento. Avery guardò Severus Piton, che fino a quel momento era rimasto in silenzio a studiare un libro di pozione dalla copertina nera e l'ugura, e che ora lo stava fissando con i suoi intelligenti quanto inquietanti occhi neri. «Non sono tutti bravi come te a mantenere i segreti», rispose velenoso Avery Rosier, portando il suo viso ad un centimetro da quello di Severus. «È mezzo sangue. Calma, Rosier», disse amabilmente Mulchiber, fissando Piton, la bocca piegata in un sorriso. «Il principino ha dimostrato quanto vale tempo fa. Dico bene». Severus lo ricambiò con un'espressione fredda. Rosier fece un passo indietro, emettendo un verso seccato. Mulchiber sorrise, poi si voltò nuovamente verso Brabastan. «Certo, un traditore», commentò, tornando di nuovo sull'argomento. «Non lo è, non ancora. Non se lei riesce ad impedirlo», rispose Rabastan. Anche lui non gradiva l'idea di sua sorella con quel ragazzo così incline a disattendere ogni loro regola o tradizione. Ma finché non veniva diseredato, gli ordini erano di considerarlo come loro. «Anzi, credo proprio che dovremmo cercare anche noi di fare la nostra parte». «Non vorrai fartelo amico», sibilò Severus. Fu Mulchiber a rispondere. «No, vuole solo farlo diventare il suo burattino», precisò con un ghigno. «Non lo conoscete bene, allora», sbottò Severus. «E tu sì?», chiese Rabastan. Severus contraste la mascella, negli occhi un risentimento anche troppo evidente. Non rispose alla domanda, disse semplicemente «non contate su di me». «Farai ciò che ti viene detto», rispose gelido Mulchiber. «Comunque», continuò a rivolta a Rabastan, «credo sia davvero uno spreco rubi con quello lì. Con il suo potenziale servirebbe qualcuno più adeguato». Rabastan valutò Mulchiber per un istante. I lineamenti definiti e lo sguardo sicuro di chi è nato per comandare è un indubitabile talento per le arti oscure e per applicare con rigore le tradizioni. Sarebbe stato sicuramente un buon pretendente. «Vuoi proporti?», rise. Mulchiber scoppiò in una risata e rispose «Detesto solo vedere tanto potere sprecato. È proprio sul potere di lei che conto per portarlo dalla nostra parte». Sirius si trovava al tavolo dei Grifondoro. Stava addentando una coscia di pollo e sogghignava divertito nel vedere Peter rubare tutto il cibo nel piatto di James, che era impegnato a discutere con Lily su come fare le ronde serali. Lei diceva di dividersi, lui di stare insieme. «Vacci piano, Codalisha, se continui così scoppierai», riseremo. «È ben lontano dal suo limite», rispose Sirius. «Però potresti condividere con gli amici». E così dicendo, infilzò due salsicce. Qualche istante dopo, James si dirò «Cosa mi sono aperto?» «Ehi!», protestò, notando il piatto vuoto. «Peter! Tuo no!» Peter si fece piccolo piccolo, sembrava quasi che avesse assunto la sua forma animale. Sirius trattenne a stento una risata. «È stato anche Sirius?», pignucolò. «Grazie, Codalisha, è sempre bello vedere che mi coprì le spalle», rispose con oscialanza Sirius. E tutti scoppiarono a ridere. James prese dell'altro cibo e chiese «Allora, che ha detto quest'anno il cappello?» «Terrori e pestilenze», rispose Sirius con la bocca piena. Il solito sorriseremo. In quel momento le porte della sala grande si aprirono. La cena era iniziata da almeno mezz'ora, quindi tutti gli studenti sarebbero dovuti essere lì, ma evidentemente qualcuno mancava all'appello. «Guarda là», disse James, dando una gomitata a Sirius e indicando la porta con una forchetta. «Chissà cosa staranno tramando». Sirius vide un gruppo di studenti serpeverdi. C'era Mulchiber, Piton, Herbaston, Avery, Rosier e anche Rubelia. Camminavano con l'atteggiamento di chi ha in mano il potere, di chi sa di essere schierato dalla parte giusta della guerra e del mondo. «Qualcosa di oscuro, sicuramente», rispose Allegro Peter. Lo sguardo di Sirius si soffermò su Rubelia, era preoccupato di rivederla dopo quello che era successo solo pochi giorni prima. Ma ora, vedendola lì insieme ad altre come lei, con quell'aria altezzosa di chi pensa di essere migliore, fu come vederla davvero. «Già», rispose in un sospiro. «Sai sicura di averle nascoste bene?», chiese per l'ennesima volta Severus. Lui, Rubelia, Rabaston, Mulchiber, Avery e Evan stavano risalendo dalla sala comune di Serpeverde, verso la sala grande. Rubelia si voltò di scatto a guardarlo. «Ho detto che ci ho pensato io», si bilò. Rabaston diede una pacca sulla spalla del compagno. «Sai tranquillo, amico. Rubi è brava in queste cose. La migliore, in effetti». Severus ridusse i suoi occhi a due fessure, continuando a guardare fisso verso di lei. Non disse nulla, ma Rubelia sapeva che era invidioso, invidioso del suo talento. «E se ci chiedono dove siamo stati?», chiese Avery. «Nessuno ci chiederà niente», rispose Mulchiber con una scintilla di saltazione negli occhi. «Sai qualcosa che io non so?», chiese Evan. «Niente di più di quello che sanno tutti in questo momento. È meglio non metterci passione tra le ruote». Rubelia lo guardò per un istante e riconobbe l'arroganza e l'esaltazione del potere sul suo volto. «Dobbiamo essere cauti, invece», gli rispose. Mulchiber le riservò un sorriso arrogante. «E perché? La maggior parte di loro è terrorizzata. Pensa che siamo...» Ma Rubelia lo zitti con uno sguardo di ghiaccio. «Ma non lo siamo. Non ancora», precisò. «E per quanto riguarda la paura, è vero, spinge molti a sottomettersi e a scappare, ma fornisce ad altri il coraggio necessario per fare ciò che devono». In quel momento il gruppo di giovani entrò nella sala grande. Molte teste si voltarono a guardarli, volti intimoriti e affascinati. In quel momento Rubelia si sentì forte, sentì il potere, quello dato dalla paura e quello di cui si stavano appropriando in segreto. Sollevarla più in alto, renderla invincibile. Ma quella sensazione durò solo pochi istanti. Bastò un unico sguardo, non intimorito né affascinato, uno sguardo di puro disprezzo che oscurò un paio di occhi grigi.